Il 9 dicembre 1967, un giorno dopo il deludente concerto di Troy e del suo ventiquattresimo compleanno, Jim Morrison, il frontman dei Doors, divenne la prima rock star ad essere arrestata sul palco, durante uno show. È uno dei momenti più seminali della musica rock. I Doors in quel periodo erano all'apice della loro popolarità negli Stati Uniti, grazie al brano Light My Fire, che in estate aveva raggiunto la posizione numero uno nella classifica Billboard 100, e i due album The Doors e il nuovo Strange Days, che avevano rispettivamente raggiunto il secondo e il terzo posto nella classifica Billboard 200. La band era in tour proprio per promuovere Strange Days, ma quella sera, nell'arena di New Haven, nel Connecticut, le cose per Jim Morrison presero decisamente una brutta piega. L'arena di New Haven era originariamente una struttura utilizzata per le partite di hockey, ed era caratterizzata da numerose finestre, entrate secondarie, uffici e spogliatoi. Tutto ciò rese necessaria la presenza di un considerevole contingente di poliziotti in occasione del concerto di quella sera. Erano attese circa 2000 persone in gran parte adolescenti. L'obiettivo era evidente, impedire l'accesso a chi non avesse un biglietto valido. Nelle ore precedenti al concerto durante la cena, Robbie Krieger, il chitarrista dei Doors, cercò in tutti i modi di dissuadere Jim Morrison dal bere, cercando di ricordargli che da lì a poco avrebbero dovuto suonare, ma così come ci ricorda nel suo libro Set the Night on Fire, fallì nel suo intento. Una volta arrivati a destinazione, Jim Morrison venne visto nel backstage da più persone in compagnia di una ragazza, con cui poi, probabilmente desiderando un po' di privacy, si appartò in un camerino. La coppia però, si ritirò nello spogliatoio che era stato assegnato a uno dei gruppi Spalla, i Tommy and the Riviera. E fu proprio all'arrivo all'arena di due dei membri della band, che nacque il primo problema. Io e Buddy arrivamo all'arena con qualche ora di anticipo rispetto all'orario previsto per il nostro spettacolo. Era nostra abitudine farlo, l'intento era sempre quello di conoscere qualche ragazza prima di dover salire sul palco. Una volta entrati nel backstage, ci dirigemmo verso il nostro camerino, ma all'interno trovammo una coppia di sconosciuti che si stava baciando. Il ragazzo non ci riservò per niente una bella accoglienza, e quando lo invitammo ad uscire, ci mandò a fanc***o, raccolse una bustina e si andò a sedere nel bagno insieme alla ragazza. Buddy non prese affatto bene quella reazione e io, onestamente, meno di lui. Vista la situazione, a quel punto decidemmo di chiamare un poliziotto per farli buttare fuori da lì. Non avevo mai visto Morrison. Probabilmente, se ci avesse detto chi era anziché risponderci in quel modo, avremmo fatto finte di nulla, e la storia sarebbe finita lì. Il poliziotto chiamato dai due ragazzi fu l'ufficiale Arthur Baker. Una volta entrato nel camerino, l'agente ordinò alla coppia di uscire dal bagno. Sandy, la ragazza, obbedì subito. Al contrario, Morrison si rifiutò di farlo. Nacque un'accesa discussione. Morrison rispose alla gente con, Eat me, un insulto volgare in slang americano che stava a significare, Fammi un p***o. Baker a quel punto prese in mano il mace, uno spray al peperoncino in dotazione ciò il cantante e, Questa è la tua ultima chance per uscire da qui. In risposta Morrison gli disse, Questa è la tua ultima chance per farmi un p***o. L'ufficiale, perse la pazienza, e sparò il mace in faccia a Morrison. Morrison cominciò a urlare dal dolore a causa degli effetti della sostanza. Barcollò lungo il corridoio fino alla sala trucco, con le lacrime che gli scorrevano sul viso. Altri poliziotti giunsero sul posto, lo presero e lo condussero nel parcheggio dietro l'arena, dove c'era un furgoncino della polizia. Scoppiò il caos. Doors. Alcuni ragazzini corsero dal responsabile dei Doors per informarlo dell'accaduto. Bill Seedons spiegò alla polizia che la persona che stavano portando via era il cantante della band leader di quella sera. L'ufficiale che aveva spruzzato il mace su Morrison spiegò di non sapere chi fosse, ma che comunque voleva arrestarlo lo stesso. Seedons insieme a Richard Lauren riuscì comunque a raggiungere un accordo con il tenente Kelly, responsabile della polizia di New Haven quella sera all'arena. Per evitare disordini del pubblico e probabilmente anche per evitare di dover rimborsare tutti i biglietti agli spettatori, i tre giunsero ad un accordo. I Doors avrebbero suonato e la questione riguardante Morrison sarebbe stata affrontata alla fine del concerto. L'orario del concerto venne ritardato per dare a Morrison il tempo di riprendersi almeno fisicamente dall'incidente. Non è chiaro se ci siano state delle scuse tra le due parti coinvolte. Ciò che è certo è che da un lato dominava un sentimento di rabbia contro la polizia, accusata di non aver riconosciuto Morrison e di averlo accecato con lo spray. mentre dall'altra parte c'era una profonda indignazione per l'atteggiamento tenuto dallo stesso Morrison nei confronti dell'ufficiale Baker. Nonostante tutto, i Doors, con un Jim Morrison ancora visibilmente provato dall'incidente, erano finalmente pronti a esibirsi. Il pubblico di quella sera sembrava completamente diverso da quello, freddo e distaccato, che aveva assistito al loro spettacolo a Troy il giorno prima. L'atmosfera nell'arena era elettrizzante e il ritardo causato da tutta quella situazione non fece che aumentare la tensione nell'aria. Poi, improvvisamente, la band di apertura concluse il suo ultimo brano. Salutò il pubblico ed uno speaker, vibrante di emozione, annunciò l'arrivo dei Doors. Tuttavia, inizialmente, nessun membro della band fece ingresso sul palco. Fu chiesto di ripetere l'annuncio e al secondo tentativo, finalmente, i Doors fecero la loro apparizione. La band aprì il concerto con la canzone 5 to 1, un brano che potrebbe essere interpretato come un inno alla rivoluzione. Jim Morrison avvertì subito l'energia del pubblico di New Haven. Cominciò a muoversi, girare, ondeggiare, saltare e contorcersi attorno all'asta del microfono. Il pubblico rimase sbalordito da quei testi, quelle parole e quella performance. Non avevano mai visto né sentito prima nulla del genere. E così, come scrisse mesi più tardi Michael Zwerin nel suo articolo per il magazine Cita, Morrison iniziò a dare di matto durante la sua performance. Digrignava i denti, urtava il microfono e arrivava quasi a ingoiarlo. Se avessi avuto una mente perversa, avresti potuto definirlo osceno. Nonostante tutto, il concerto stava procedendo bene. Tuttavia, nel volto di Manzarek e Densmore si poteva notare una sorta di preoccupazione. Sapevano che Jim aveva bevuto e che era ancora arrabbiato per quello che era successo nel backstage. E infatti, poco dopo, a metà della canzone Backdoor Man, quella che poi sarebbe diventata a breve, la loro ultima canzone del concerto, Morrison colse l'occasione per raccontare al pubblico cosa era successo dietro le quinte. Spiegò come aveva incontrato quella ragazza nel backstage e poi, sempre accompagnato musicalmente dagli altri tre, continuò il suo discorso. Il pubblico seduto sugli spalti, a quel punto, iniziò a sbattere i piedi sulle pedane di legno, creando un suono tumultuoso che rimbombava per tutta l'arena. E in quel momento, Morrison, con un pronunciato accento redneck, utilizzato deliberatamente per provocare la polizia, iniziò a raccontare dell'incontro avuto con l'agente Baker. Io e questa ragazza abbiamo iniziato a parlare e volevamo un po' di privacy, così siamo entrati in questa doccia. Non stavamo facendo niente, stavamo solo lì a parlare. Poi, questo omino è entrato, questo signore con un vestitino blu e un cappellino blu, questo maiale di New Haven, e ci ha chiesto, cosa state facendo qui? Non stiamo facendo niente, gli ho risposto io, ma non se ne è andato, è rimasto lì. Poi si è messo una mano dietro la schiena ed ha tirato fuori una piccola lattina nera che sembrava schiuma da barba, e me l'ha spruzzata negli occhi. E sono rimasto cieco per 30 minuti. Ci fu una sorta di ruggito dalla folla e alcune persone gridarono. Morrison riprese a cantare l'ultima strofa di Backdoor Man, ma i poliziotti, dopo aver ascoltato quel racconto, cominciarono ad agitarsi. Alcuni di loro si avvicinarono al palco, mentre altri distolsero lo sguardo dal pubblico e si voltarono per osservare il frontman. La situazione, ovviamente, non era diventata delle migliori, ma nessuno avrebbe mai immaginato che di lì a poco sarebbe peggiorata ulteriormente. Finita la canzone, Morrison guardò il pubblico, lanciò l'asta del microfono dal palco e urlò, il mondo intero mi odia, nessuno mi ama, tutto il fottuto mondo mi odia. Nel giro di pochi istanti, in tutta l'arena calò un silenzio tombale. Vi fu una sorta di gelo, poiché nessuno, tra quel pubblico composto principalmente da ragazzini della New England, aveva mai udito un linguaggio del genere. La folla rimase sbalordita, e qualcuno anche nel backstage si iniziò a lamentare. In quei tempi, la cosiddetta parola F veniva utilizzata con estrema cautela, e soltanto nelle conversazioni più riservate, adeguate al contesto in cui era utilizzata. Non era una parola che veniva pronunciata senza pensarci, come spesso accade oggi. Quella fu la goccia che scatenò la tempesta. La reazione dei poliziotti si intensificò ulteriormente, con volti contratti dall'ira e voci che gridavano di incredulità e rabbia per ciò che avevano sentito, ma, peggio ancora, per ciò che Morrison aveva reso pubblico. Nell'arena, tutte le luci si accesero improvvisamente. Morrison si rivolse al pubblico chiedendo se volessero ancora ascoltare della musica, e l'unanime risposta fu, sì. A quel punto, il cantante esclamò, e allora qualcuno spenga queste fottute luci. Ma la richiesta non venne soddisfatta, e in pochi istanti, accanto a lui, lì sul palco, comparve il tenente Kelly. All'inizio, Morrison fu disinvolto, puntò persino il microfono verso Kelly e gli disse «Di la tua, amico». Nel frattempo, Manzarek si alzò dalla tastiera e sussurrò qualcosa all'orecchio del cantante. Il tenente Kelly non rispose, mentre un altro agente, di nome Kevin Leary, strappò il microfono dalle mani di Morrison. Lo afferrò per un braccio, e lo trascinò via di forza dal palco. Morrison non reagì. Ma nonostante ciò, dietro di loro comparve un altro poliziotto di nome Wayne Thomas, mentre un quarto agente, di nome Robert Meyerholz, si posizionava dietro la batteria di Densmore. Lo spinsero a terra, e Sidons cercò di proteggere Morrison facendo scudo con il proprio corpo, ma il tentativo fallì. Gli agenti lo presero, e lo portarono via. Scoppiò il panico. La polizia invitò il pubblico ad uscire dall'arena. Alcune ragazzine iniziarono a piangere, dei ragazzi a lanciare delle sedie per protesta, molti altri invece, delusi ed arrabbiati, si incamminarono verso l'uscita. Tim Page, un fotografo appena tornato dal Vietnam, scattò una foto di diversi poliziotti intenti ad arrestare un giovane. Uno dei poliziotti lo vide e lo spinse in strada. Tim protestò con il tenente Kelly. Il tenente si disse dispiaciuto, e rispose che avrebbe parlato con l'agente, non appena la situazione si fosse calmata. Poi, mentre Kelly correva via, il poliziotto tornò e arrestò Tim. Anche Yvonne Chabrie, una giornalista di Life, venne arrestata. E insieme a lei, anche Michael Zwerin, il critico jazz di The Village Voice. Il tutto senza una ragione apparente. Nel frattempo, Jim Morrison venne portato in una stazione di polizia poco distante dall'arena, situata nella Court Street di New Haven. In pochi minuti, all'esterno del piccolo commissariato, cominciarono a radunarsi decine di ragazzi e ragazze in segno di protesta per quanto accaduto. L'ufficiale Bladzie annotò l'arrivo di Morrison presso la stazione di polizia. Gli vennero prese le impronte digitali e successivamente furono scattate le foto segnaletiche, che oggi possiamo considerare tra i mugshots più noti al mondo. La data riportata sulle immagini è il 10 dicembre, poiché Morrison arrivò alla stazione solo dopo mezzanotte. Le accuse rivolte al cantante furono violazione della pace, resistenza all'arresto ed esibizione oscena e volgare. Nel verbale venne anche riportato che durante il concerto, Morrison si soffermò a fornire dettagli molto intimi riguardo al suo incontro con la ragazza nel backstage, suscitando lamentele e imbarazzo nel pubblico presente. Nel mentre, altri ragazzi furono portati in centrale, alcuni prelevati dall'arena e altri tra i manifestanti. Incredibilmente, due di loro, Burns e Haggerty, si ritrovarono a sorpresa in cella proprio con il cantante. Il tutto si concluse con 13 arresti da parte della polizia, incluso quello della Rockstar. Questo, unito all'arresto di alcuni membri della stampa nazionale, garantì un'ampia copertura mediatica dell'evento. Morrison pagò la sua cauzione in contanti ed uscì poco dopo. Le accuse furono ritirate un mese più tardi quando Morrison non comparve in tribunale, rinunciò alla sua cauzione, ma non fu emesso alcun nuovo mandato d'arresto. I Doors non si esibirono più nel Connecticut dopo il concerto di New Haven, e pensare che solo due mesi prima avevano suonato in una high school di Danbury, ottenendo un grandissimo successo. In quell'occasione, durante la loro ultima canzone, The End, Jim Morrison saltò dal palco, e prima di ritornarci su, ruppe l'asta del microfono sbattendola più volte sul pavimento del palcoscenico, quasi come se fosse in trance con l'atmosfera musicale. I segni lasciati sul palco sono visibili ancora oggi. Tutte le radio di New Haven, dopo l'incidente dell'arena, decisero di non trasmettere Love Me Two Times, il nuovo singolo dei Doors. La band venne licenziata da un imminente spettacolo televisivo, e l'attenzione delle istituzioni su Jim Morrison crebbe così tanto, che da lì a pochi giorni, lo stesso FBI aprì un fascicolo a suo nome. New Haven venne menzionata più tardi nel 1970, nel testo di Peace Frog, una canzone dei Doors presente nell'album Morrison Hotel. È interessante notare che nel preciso momento in cui viene cantata la strofa Blood in the Streets in the Town of New Haven, si può udire un suono riprodotto molto simile a quello di uno spray. Il concerto dei Doors e l'arresto di Jim Morrison a New Haven, rappresentano ancora oggi, dopo più di 50 anni, uno degli eventi più iconici nella storia della musica rock. In un'intervista per il magazine Rolling Stone nel 1969, Jim Morrison, rispondendo a una domanda sulle accuse che gli vennero rivolte a New Haven, disse. Se per qualche motivo sei su una strada diversa dalle altre persone che hai intorno, questo farà tintinnare la sensibilità di tutti. Finché tutto si collega e si unisce, puoi farla franca anche per omicidio.